ciao amici benvenuti cucina con mauro oggi prepariamo la finta carbonara questo guanciale vero le uova io le metto intere almeno non si sprecca niente adesso metto del pepe bianco dopo se non basta lo rimettiamo ancora mettiamo anche del sale un poco infine abbiamo messo dell'abbondante parmigiano ecco la nostra carbo crema ecco che abbiamo scolato la pasta adesso mettiamo il guanciale un po di guanciale così da poi metteremo alla fine ecco che abbiamo messo la carbo crema adesso andiamo a mescolarla nel pianino poi vediamo risultato finale ecco la nostra carbonara pronta metterla lì